Alessia di Salvo Alessia prego il microfono vi ricordo che stiamo in assoluta diretta quindi tutto quello che sta succedendo in assoluta diretta Alessia è emozionata? Allora Alessia è stata la vincitrice di una vetrina per l'estate l'edizione dell'anno scorso si è arrivata al secondo posto un concorso per ora che ho mai presunto da tre anni quindi figurati Allora Alessia il primo brano che ci fa ascoltare? Solo rumore un brano che mi piace tantissimo portare al successo della verità di amici Alessia di Salvo prego Maria e capirai che è solo un rumore se la verità è tutto quello che è la verità di amici che è la verità di amici colpisce il futuro e la verità di amici E dirai che la soluzione è lasciare andare, non sentirsi più, pensare amando è facile. C'è che il giorno scoprirà anche le loro amare crisi che non hanno alcun potere, non potrà decidere più sulla schiena in campo. E capirai che è solo tumore, fervido in colore, voci sperare. E se capirai che la soluzione è lasciare andare, non sentirsi più, pensare amando è facile. E se capirai che è solo rumore, fervido in colore. E se capirai che la soluzione è lasciare andare, non sentirsi più, pensare amando è facile.